Allora ragazzi ho ricevuto questo bacco da brillante Il bacco è un negozio in pieno centro a Cartagirone dove si occupa di ceramica E' un negozio bellissimo, in via Duomo proprio in pieno centro Lo potete trovare sia su Facebook che su Instagram, infatti qui sotto vi lascio il link E mi ha spedito, infatti lo ringrazio, questa splendida Testa di Moro Che è comunque un vaso, se conoscete la leggenda delle Teste di Moro sapete La famosissima leggenda, comunque con la sua firma E poi mi ha spedito questa bellissima farfalle Perché io comunque adoro le farfalle Che comunque ha anche un gancino dove comunque si può appendere al muro Veramente fantastiche, poi bianche io le trovo molto eleganti Anche perché si abbina pure alla mia pigna bianca che io ho preso Quando fu in Sicilia, questa è stata a Mazzara Ovviamente io sono siciliana, quindi come sapete Quindi è stato un regalo bellissimo, veramente Mi invito comunque a visitare la loro pagina Grazie a tutti Grazie a tutti